Quella dei furbetti non è una realtà soltanto italiana, si sta diffondendo a livello internazionale. C'è ad esempio una realtà, di cui ovviamente lo faccio il nome, che alla vigilia di qualche fiera del libro, delle fiere del libro più importanti, manda agli editori una lettera da cui si evince che tu sarai inserito nel catalogo degli editori di quella fiera. Poi in corpo piccolissimo, se tu firmi questa proposta e tu la accetti, c'è scritto che con quella firma sarai obbligato a pagare 1200 euro circa all'anno per tre anni perché si tratta di pubblicità. La stessa operazione, gli stessi furbetti che ora cominciano ad essere scoperti per questo giochetto, la stanno tentando con un altro giochetto. Ti mandano delle lettere dicendo che tu sei stato inserito nel catalogo dei siti in internet e in questo caso, se tu firmi, pagherai per tre anni circa 900 euro. Insomma, i furbetti si espandono per l'Europa. Insomma, i furbetti si espandono per l'Europa.